Un evento in collaborazione con Adidas Torsche. Pulsa. Tornano le coppe europee. Tornano le sfide da 180 minuti. Mercoledì da Mosca per l'andata del primo turno di Coppa delle Coppe CSKA Roma. La squadra giallorossa Orpana di Föller affronta i moscoviti del CSKA, vincitori della Coppa Sovietica e attuali leader del loro campionato. Mercoledì alle 18, CSKA Mosca Roma. Chi ama il calcio, sceglie Italia 1.